La magia dei libri risiede nella loro capacità di farci immergere in mondi paralleli, lontani dalla realtà quotidiana. Ma quando un autore è in grado di creare un'opera che si connette direttamente alle emozioni dei lettori, il risultato è un capolavoro indimenticabile. Ci immergeremo nel mondo di Libro Nero, di E.J. Ivan Luck, una raccolta di frasi, poesie, aforismi e pensieri che trascendono il tempo e lo spazio, toccando le corde più profonde dell'anima. L'autore ha selezionato i suoi scritti più potenti e significativi, regalando ai lettori una visione inedita del suo mondo interiore. Questa opera non è solo un autoritratto letterario, ma anche un invito a esplorare le proprie emozioni e connettersi con l'universalità dell'esperienza umana. Ogni pagina è un mondo a sé stante, con la capacità di far scendere una lacrima, suscitare un sorriso, emozionare e far riflettere. La varietà di toni e sentimenti rappresenta un riflesso della complessità della vita stessa. Sfogliando le pagine di questo libro, ci si immerge in un viaggio emozionale, in cui l'autore e i lettori si incontrano, condividendo le gioie e le sfide dell'esistenza. Indipendentemente dalla provenienza culturale, Libro Nero si pone come un ponte che unisce le persone attraverso le emozioni universali che accomunano l'intera umanità. Che siate alla ricerca di conforto, riflessione o ispirazione, Libro Nero sarà in grado di accompagnarvi in un viaggio emozionale, senza tempo.